Devo dire che ho accettato con grande piacere perché mi fa tornare indietro i tantissimi anni, ma soprattutto perché mi fa tornare in momenti bellissimi di gioco spettacolo e soprattutto anche molto divertente. Vedere il Paron dove io per sette anni ho giocato con lui perché ho avuto la fortuna di esordire con lui, di imparare tantissimo e poi dopo nel periodo vincente dei quattro anni in cui si è vinto tutto e che lui è stato sicuramente il più grande protagonista perché ci sono tante cose che bisogna raccontare di Rocco che tanti non conoscono. Adesso spesso e volentieri si parla del gruppo ma lui l'aveva creato già 50 anni fa, aveva creato una specie di commissione interna dove lui aveva già in mente la sua formazione però voleva che fossi tu a dire qualche cosa nei confronti delle scelte e così è stato un personaggio assolutamente inimitabile. I ragazzini sono entusiasti, gli ho detto così di chiedere ai propri nonni chi era giovanino Lodetti e sicuramente le spiegheranno ancora meglio loro, però ho cercato di dire una cosa semplice che sono tutti amici, che devono andare al campo per divertirsi, che devono imparare un po' anche del calcio straniero, dei ragazzini perché mi stavano raccontando che spesso vanno fuori a giocare e trovano molta disponibilità dei suoi compagni e questo è molto bello. Noi invece in qualche occasione, qualche volta magari si va oltre, che non dovrebbe essere, però ho trovato un gruppo di ragazzini molto disponibili, vogliono sapere, conoscere e questo è molto bello e poi ripeto, quello che voglio dire è che vadano al campo per divertirsi. Chi poi sarà bravo verrà da sé il giocatore, ma quello che è importante è che stiano bene insieme.